è un grande talento che si fa lasciarvi davvero a bocca aperta però la cosa è molto di voi se lui riuscirà a girare e sarà, diciamo, per il suo autore interno voi dovete essere la sua benzina quindi con il vostro supporto, con i vostri applausi dovete dargli energia per girare, girare, girare e lasciarvi a bocca aperta dentro questa show straordinaria visto che il nostro artista sta già scaldando il motore nell'aria palco cominciamo con un po' di mattina, potete sentire signori e signori, Emma Selim Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!